C'è nessuno? Sauna, le sidla, 80 gradi Va, fatta la doccia, doccia, doccia prima Un attimo, vai, buono, vai, vai, no, qua Acqua, fredda, vai Immersione, immersione, totale Acqua a 4 gradi Vai, vai Buono, al secchio, al secchio Vai al secchio, forza Vai, vai al secchio, vai Ambo Oh, ah, 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 ah